Buongiorno, siamo con la riforma anche del presidenzialismo in questo momento? Sto proseguendo questa attività di ascolto, termino questa settimana e quindi poi ferrò le riflessioni del caso. Ma andrà di pari passo con le autonomie oppure è già stato stabilito che no? No, le autonomie hanno un loro percorso e io ne ho un altro, ma è chiaro che poi la maggioranza è coesa sull'una e sull'altra. Non ci sono problemi di sorte. Grazie. Cosa si aspetta l'incontro domani con il Partito Democratico? Non so da chi esattamente sarà composto, sicuramente dai capigruppo, ma poi è loro facoltà portare lo studioso che ritengono parlamentari della Commissione Affari Costituzionali. Sicuramente penso che verranno i capigruppo anche degli affari costituzionali, però è aperta a chiunque voglia partecipare. Grazie.